Oggi spieghiamo un po' di doppio pedale. Doppio pedale mi è sempre stato chiesto qualche figura, qualche ritmo ganso, bello da poter fare sulla batteria. E oggi proviamo a farlo, io lo chiamolo zoppicato. Il ritmo con il doppio pedale è terzinato, mettendoci lo swing. Il ritmo famoso lo ritroviamo in Hot for Pitcher di Van Allen, lo troviamo in Such Boogie di Satriani, Simon Phillips che lo mette in Qua e là con il Lobo Tomis, eccetera. Quindi, questo tempo qua, molto bello, molto ganso anche da suonare. Quindi... Adesso proviamo a farlo in versione più rock, mettiamo il rullante deciso col bordopelle. 3, 2, 3, 4. Adesso proviamo a farlo come l'ho scritto io qua a pagina 57 del mio libro, mettiamo anche le Ghost. E adesso proviamo a farlo tutto più veloce. E adesso proviamo a farlo tutto più veloce. E questo è il risultato finale della cassa fatta in questa maniera e mettendoci però anche in molto importanti che il tempo rotola, lo fa rotolare, le Ghost di rullante e lo swing. Alla grandona!